È una vera e propria corsa contro il tempo per evitare la prescrizione nel processo sulla morte di Martina Rossi, la ventenne precipitata all'alba del 3 agosto 2011 dal sesto piano di un hotel di Palma di Mallorca, dove si trovava in vacanza con delle amiche. È infatti passata appena una settimana dal deposito delle motivazioni della Cassazione relative all'annullamento delle assoluzioni del 21 gennaio scorso e la Corte d'Appello di Firenze ha già messo in calendario un'udienza fissata per il 7 aprile, proprio per evitare il rischio di slittamenti sino ad ottobre, quando per i due imputati, Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, entrambi di Castiglion Fibocchi, il reato, l'unico rimasto in piedi, ossia la tentata violenza sessuale, potrebbe essere dichiarato estinto. Già fissata poi anche una seconda udienza, esattamente una settimana dopo, il 14 aprile, se questi due appuntamenti in aula non dovessero bastare per arrivare alla sentenza, sarà stabilito un ulteriore calendario. È stato fatto tutto il possibile perché si arrivi ad una decisione nel merito, nel rispetto dei familiari della vittima e degli stessi imputati, ha spiegato il presidente regente della Corte d'Appello di Firenze, Alessandro Nencini. Albertoni e Vanneschi erano stati condannati dal Tribunale di Arezzo a sei anni per tentato stupro e per aver causato la morte nella fuga della giovane studentessa. In Appello, invece, lo scorso 9 giugno erano stati assolti dall'accusa di tentata violenza sessuale, con la formula perché il fatto non sussiste, mentre era stato dichiarato per scritto il capo di imputazione di morte come conseguenza di altro reato. Lo scorso gennaio, infine, la Cassazione, accogliendo il ricorso presentato dalla Procura Generale di Firenze, ha annullato la sentenza disponendo un processo bis.